La Giunta Comunale di Agrigento avvia il progetto Sicurezza Città dei Templi, che prevede servizi di controllo e pattugliamento del territorio al fine di garantire la sicurezza urbana, la circolazione stradale, le aree pubbliche e gli istituti scolastici. Il progetto è stato presentato questa mattina dall'amministrazione comunale e dalla comandante della Polizia Municipale. Scopo del nuovo progetto è anche quello di prevenire fenomeni di inquinamento ambientale e reprimere gli illeciti amministrativi e penali. Un ufficio mobile avvierà contestualmente una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'etica civica e della sicurezza urbana per promuovere le norme che regolano la vita sociale, sollecitando i cittadini ed in particolar modo i giovani a divenire soggetti attivi sui temi della prevenzione e della sicurezza urbana. I particolari sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza. Allora, finalmente il progetto Ponne Sicurezza che avevamo presentato alcuni anni fa diventa un fatto concreto perché proprio in queste ore si stanno installando nella nostra città 50 telecamere che chiaramente saranno tutte eseguite da una regia unica e che consentiranno di poter avere un controllo del territorio H24 importante per riuscire a garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Sono felice di questo fatto perché finalmente il lavoro faticoso di anni duri diventa un atto concreto che darà maggiore sicurezza e migliorerà la qualità della vita nella nostra città. Queste 50 telecamere che si stanno installando da ora fino al 31 dicembre riguardano praticamente tutte le aree e le zone della nostra città Via Tenea, Piazza Gallo, Piazza Pirandello, Villa Bonviglio, Villa del Sole, San Leone, uffici periferici, gli uffici dove c'erano gli ambienti sportivi di Villa Seta, gli ex uffici del giudice di pace e giudice di sorveglianza, il lungomare Falcone e Borsellino e tutti gli altri siti abbiamo un elenco specifico che quindi riguarda anche i punti nei quali si registra un maggior affollamento, i punti cosiddetti sensibili e i punti nei quali è necessario un controllo del territorio. Grazie. 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 Grazie.